Massimo Manzo è conosciuto come lo scultore degli angeli, ai quali ha cominciato a dare forma dopo l'attentato alle Torri Gemelle. È di Roma, vive ad Anzio, ma le sue origini sono molisane di Duronia, paese in cui torna spesso e per il quale ha realizzato nel 2007 un'opera in bronzo in memoria dei caduti di Mononga. All'attivo diverse personali, nella capitale non solo ha ottenuto riconoscimenti. La sua è un'arte spirituale e concettuale intrisa di fede. Le sue sculture spesso in pose plastiche, curate nei dettagli, si alternano ad altre lasciate volutamente incompiute o che emergono solo in parte. Opere che esprimono sentimenti, stati d'animo, esperienze di vita. Alcuni suoi lavori Massimo Manzo li ha voluti esporre, in questi giorni e fino a domani, nella casa di riposo Villa Serena a Duronia. Mostra inaugurata la presenza del vescovo di Trivento Domenico Scotti. Lavori che sono la somma di quanto realizzato dall'artista finora, opere scolpite dopo un sogno della moglie. Sculture bianche e nere, disposte in un ambiente luminoso. Ci sono gli angeli, nero con le ali aperte o chiuse, entità sottili, a volte pensose, senza età. Entità che vogliono rappresentare la speranza e la fede. L'angelo che nel concetto di Manzo ci aiuta a superare le difficoltà della vita, che si fa carico dei nostri pesi, ci solleva da terra e ci fa camminare di nuovo verso la luce. Ed ecco la rinascita scolpita in bianco, mani che liberano un uccello, un uomo che nuota nel mare, un atleta impegnato in movimenti fluidi, liberi, simboli di vita, una vita che si apre a nuove sfide, da guardare con prospettive nuove.